Carlo Mammarella, sempre per te credo particolare, Carlo, affrontare il Pescara, la squadra della tua città. Insomma, oggi è stata una partita importante per voi, era l'ultimo, l'ultimissimo appello per evitare la retrocessione diretta? Sì, è un campionato strano, però parliamoci chiaro, era l'ultima partita che ci avrebbe poi permesso di andare a giocarci la partita a Dentella con un significato. E' stata una partita tosta, difficile, però affrontata con lo spirito giusto. Credo contro una squadra che comunque, al di là dell'episodio, dell'espulsione, abbia fatto comunque la sua partita, rischiando addirittura magari di passare sul 2-1. Dico un po' che le due squadre un po' si somigliano a Pescara e Vercelli, perché gli episodi, io credo, noi nelle ultime almeno 10 partite c'è successo di tutto e quindi oggi magari anche al Pescara l'episodio è stato contro, ma non contro da parte dell'albero, contro nel senso che le paghi poi caramente sia per il rigore sia magari per l'espulsione, che sono due episodi determinanti. La carta d'identità cosa dice a Carlo Mammarella? E' 36. Ma non si vedono in campo, facciamo i complimenti perché fino al novantesimo poi quando è entrato Raicevic si è andato a fare l'attaccante aggiunto, una sorta di 4-2-4, quindi è fatto tutta la fascia. Al di là di questo, l'approccio, perché ne parlavamo anche con Grassadone e con Pilon, voi con i due attacchianti esterni e con te che ti sovrapponevi, avete messo in grossa difficoltà nei primi dieci minuti il Pescara. Come l'avevate preparata questa partita? Perché non più 3-5-2? Sai, quando vieni da un periodo non felice dal punto di vista dei risultati è normale che cerchi di cambiare qualcosa. Il mister ha avuto questo intuito, ma semplicemente perché 4-3 è il suo modulo, è il suo calcio, è il suo modo di vedere il calcio e per tanti motivi durante la stagione l'abbiamo abbandonato. Oggi magari il mister si è sentito che era la partita dell'all-in dove buttiamo tutto dentro e quindi ha voluto cambiare, ma non perché il Pescara giocasse in un modo particolare, è proprio un aspetto suo che ha voluto dare alla squadra. È limitativo, Mammarella, dire che questa partita è stata decisa nei primi dieci minuti di gara e negli ultimi dieci? Faccio una premessa, magari l'impatto alla gara che abbiamo dato noi è stato secondo me forte, soprattutto in quei primi minuti. Se non ci fosse stata l'espulsione, non lo sapremo mai, ma se non ci fosse stata l'espulsione di Crescenzi probabilmente qualche problema in più la Provercelli poteva averlo. Penso di sì, perché poi in dieci comunque il Pescara ha dimostrato di poter fare la sua partita, ma io il Pescara comunque lo seguo, vedo le partite, il sabato la sera mi rivedo un po' tutta la Serie B e posso dire che ultimamente magari sta girando anche male. Siccome ci siamo passati, oggi magari quel girare male per noi è cambiato, quindi magari se torna a girare un attimino a favore penso che non abbia problemi a uscire dalla situazione che si è venuta a creare. Carlo, poco fa Grassadoni ai nostri microfoni ha fatto finta di non sapere dell'interessamento del Pescara, ha detto sono comunque onorato se un club come Pescara, pensa a me. Se dovesse andare a Pescara e dovesse chiamare Carlo Mammarella, che dice Mammarella? Ma io verso dicembre ho fatto un'intervista parlando proprio di lui e di un calcio che propone, che magari noi facciamo anche fatica, no? Perché a livello qualitativo non abbiamo quella forza da poter esprimere quello che lui vuole, ma devo dire che è un allenatore che ne ho visti veramente pochi. La mia domanda era se Grassadoni a Pescara chiama Mammarella e gli dice vieni qui? Per il mister sarei disposto veramente a fare di tutto perché è uno di quelli che ti lascia qualcosa del... Pescara avresti volentieri. Perché no? L'ultima domanda, guardiamo alle prossime giornate. Provercelli, Pescara e voi nel prossimo turno avrete un altro scontro decisivo a Chiavari con la Virtus Centella e Pescara affronterà lo Spezia, squadra strana che oggi ha perso in casa. Partita per i biancazzurri importante per cercare di guadagnare qualche posizione di classifica. Adesso le partite sono sempre meno, quindi a prescindere dall'avversario che incontri, ma per i propri obiettivi sono tutti quanti importanti. Lo Spezia è una squadra, secondo me, soprattutto fuori casa, difficile da affrontare perché ha qualità nei giocatori e soprattutto nelle ripartenze. Quindi credo che sarà una partita tosta per tutte e due. L'ultima anche da parte mia, Carlo, onesto, un giudizio sul Pescara. Lo seguivi, lo segui in televisione e oggi lo hai visto dal vivo. Che ci dici? No, a me è piaciuto. A prescindere dal risultato e da quello che abbiamo fatto, però Pescara ha fatto la partita che doveva fare, mettendoci magari in difficoltà in alcune situazioni, ma ripeto, si tratta solo di far girare perché purtroppo il calcio, ma anche nella vita, è formato da quel 40% di fortuna e magari quel 40% adesso per Pescara si è abbassato di molto, quindi credo che possa ritrovare.